Ciao a tutti i lettori di Denorba Blog, in questo video vi mostrerò un'applicazione gratuita per Mac che vi consente di scrivere in maniera totalmente rilassante. Sto parlando di HomeWriter, un'applicazione scaricabile in rete gratuitamente. Allora, come potete vedere all'inizio appare un messaggio che ci suggerisce di mettere le cuffie. Infatti questa applicazione ha un suono di sottofondo assai rilassante che è consigliabile ascoltare con le cuffie per non essere distratti dai suoni dello spazio circostante. Come potete vedere c'è una collina innevata, l'interfaccia è minimale. Sulla destra è presente un menu dalla quale possiamo modificare il font, la sua dimensione, lo sfondo dell'interfaccia, la musica di sottofondo, il rumore dei tasti che battiamo e nell'ultimo menu, in fondo, è possibile salvare il documento da un iscritto. La musica di sottofondo è stata un'interfaccia, utilizzare la musica di sottofondo, Grazie a tutti.